Negli ultimi anni sono stati scoperti migliaia di pianeti extrasolari. Questi mostrano una enorme varietà di condizioni fisiche in cui possono trovarsi questi mondi alieni. Questo modello è una rappresentazione artistica del pianeta roccioso denominato 55 Cancri-e. Un pianeta in orbita attorno ad una stella, 55 Cancri, che è molto simile al nostro Sole. La stella si trova a circa 40 anni luce dalla nostra Terra, nella costellazione del Cancro, ed ha come stella compagna una nana rossa. 55 Cancri-e è il più interno di un sistema planetario che comprende attualmente 5 pianeti nodi. Il pianeta è circa due volte più grande della Terra e si trova ad una distanza dalla stella che è soltanto circa due volte le dimensioni del Sole. Il pianeta è caratterizzato da attività geologica estrema a causa di intensi effetti mareali dovuti alla grande vicinanza alla sua stella. La parte del pianeta in ombra ospita un esteso guscio gassoso probabilmente simile alla coda di una cometa con una considerevole componente di idrogeno. Mentre la parte rivolta verso la stella è caratterizzata da un'atmosfera ricca di minerali di origine vulcanica che sono stati vaporizzati a causa delle elevate temperature. La parte del pianeta è un'attmosfera ricetta.